Io fui chiamata all'esistenza per aiutare a costruire un mondo migliore e usare i talenti che il Signore mi aveva dato per contribuire ad estendere il Regno dei Cieli sulla Terra, ma non lo feci. Anzi, quanti cattivi consigli diedi a quanta gente trascinai e rovinai con i miei cattivi consigli e cattivi esempi. Non seppi usare i talenti che Dio mi diede, non li usai mai. Il Signore mi chiese anche che tesori spirituali mi porti. Tesori spirituali? Le mie mani erano vuote. Allora mi disse, a cosa sono serviti i due appartamenti che avevi, le case che possedevi, gli ambulatori che tu consideri di una professionista? con grande soddisfazione. Forse hai potuto portarne qui un solo mattone? A che ti è servito tanto culto al tuo corpo, tutto il denaro speso per esso, tutte le preoccupazioni per stare in forma? A cosa ti è servito? Sottoporlo a tante diete che ti portarono a soffrire, danoressia, bulimia, torturando il tuo corpo? Facesti del tuo corpo di te stessa un Dio? E a che ti serve tutto ciò adesso, qui? Eri molto generosa, è vero, ma lo facevi perché ti ringraziassero, per essere lodata, perché dicessero che eri buona. Manipolavi tutti con i soldi, perché in cambio ti facessero favori. Dimmi, cosa hai portato qui? Quando ti visitai con la rovina economica, non fu un castigo, come tu pensasti, ma una benedizione. Sì, quella bancarotta era per spogliarti di quel Dio, quel Dio che servivi. Era per farti tornare a me, ma tu ti ribellasti, ti rifiutasti di scendere dal tuo livello sociale e imprecavi, schiava di questo tuo Dio denaro. Pensavi di aver ottenuto tutto da sola, con le tue forze, con lo studio, perché eri lavoratrice. Lottatrice invece no. Guarda, guarda quanti professionisti ci sono con studi accademici migliori dei tuoi, quanti che nel lavoro si impegnano come o più di te, osserva le loro condizioni. A te fu dato molto ed è per questo motivo che molto ti viene chiesto, di molto devi rispondere. Pensate, d'ogni chicco di riso che sprecai dovetti rendere conto a Dio per tutte le volte che buttai il cibo nella spazzatura. Nel mio libro della vita vidi quando ero piccola e la mia famiglia era povera. Mia madre cucinava spesso i fagioli e io li odiavo, li detestavo. Dicevo ancora questi maledetti fagioli, un giorno sarò tanto ricca che non li mangerò più. Vidi una volta che gettai via i fagioli che mamma mi aveva servito senza che lei se ne accorgesse e quando si sedette per mangiare notò il mio piatto vuoto. Pensò che avessi mangiato in fretta perché avevo molta fame e mi servì un'altra volta dandomi la porzione riservata a lei. Così rimase senza mangiare. Sapete, il Signore mi mostrò che tra le persone a me più vicine, chi soffrì spesso la fame a quel tempo fu mia madre. Avendo sette figli, molte volte rimaneva senza mangiare perché mangiassimo noi, poiché eravamo molto poveri. Ebbene, quel giorno rimase affamata per darmi senza saperlo ciò che io avevo buttato nella spazzatura. Ma accadeva anche spesso che non mangiasse perché bussava qualcuno alla porta per chiedere cibo. E lei? Dava quello che stava per mangiare. Soffriva la fame ma non lo fece mai notare. Non aveva mai la faccia amareggiata, tanto meno triste, né alcun altro segno. Anzi, era sempre col sorriso e non le si notava niente. Vi ho già raccontato che gioiello di figlia ero. Chiamavo mio padre Pietro Spaccapietra. E a mia madre dicevo che era fuori moda, che era una vecchia antiquata e altre cose del genere, fino al punto di negare che lei era mia madre, perché ne avevo vergogna. Figuratevi. Eppure non immaginate le grazie e le benedizioni che si spargevano su di me e sul mondo intero per merito di mia madre. Pensate la grazia ad avere una madre che va in chiesa e davanti al tabernacolo offre le sue sofferenze e il suo dolore a Gesù e per di più confida, confida in lui. Il Signore mi disse, mai nessuno ti amò e ti amerà come tua madre, mai. Nessuno ti amerà così teneramente come lei. Poi il Signore mi mostrò tutte le feste che davo, dopo il cambiamento della mia condizione sociale. In quei banchetti, in quei buffet, metà del cibo finiva nella spazzatura senza pensarci su. Il Signore continuò. Guarda, guarda i tuoi fratelli soffrire la fame. Io avevo fame, mi disse quasi gridando. Sapeste come addolora il Signore la fame? il bisogno e la sofferenza dei suoi figli? Come lo rattrista il nostro egoismo e la nostra mancanza di carità verso il prossimo? E continuò a farmi vedere come, in casa mia, c'erano tante cose raffinate e costose. In effetti, a quel tempo avevo in casa roba molto costosa, vestiti molto eleganti, costosissimi. Il Signore mi disse, io ero nudo e tu avevi gli armadi pieni di abiti costosi che non usavi. Vedi anche che quando vivevamo a un livello sociale alto, se le mie amiche compravano abiti firmati, io dovevo acquistarne di migliori. Se uno si comprava una bella auto, io dovevo prenderla migliore. Volevo sempre qualcosa di meglio rispetto a loro, perché ero invidiosa. Il Signore mi disse, fosti sempre altezzosa, facevi paragoni con quelli che stavano meglio di te, persone ricche, e non guardasti mai a quelli che stavano economicamente più in basso di te. Quando eri povera, camminavi sulla strada della santità, perché davi persino quello che ti mancava. E mi mostrò quanto gradì il mio gesto una volta che mia madre, nonostante la nostra povertà, riuscì a comprarmi delle scarpe da tennis di marca. Io ero contentissima, ma incontrai un bambino di strada che era scalzo e sentì una tale pena per lui che mi tolse le scarpe e gliele diedi. Tornai a casa senza calzature e mio padre quasi mi ammazzò. E non senza ragione. Con la povertà in cui eravamo, tanto sacrificio per comprarle, e io le regalai per via, appena acquistate. Ma il Signore ne fu contento. Come gli piaceva la strada per cui camminavo, nonostante fossimo una famiglia complicata e povera. Dio spargeva su di noi molte grazie e benedizioni per merito di mia madre, della sua bontà e delle sue preghiere. Il Signore continuò mostrandomi che se non mi fossi chiusa la grazia allo Spirito Santo avrei potuto aiutare molta gente con i talenti che mi aveva dato. Mi mostrò tutta l'umanità e come noi rispondiamo a Dio a causa di ciò che abbiamo vissuto, tenendo il cuore chiuso a Lui e allo Spirito Santo e alle loro ispirazioni divine. Mi disse, io avevo ispirato di pregare per queste persone, se l'avessi fatto. Il male non sarebbe entrato in esse causando tanto danno. Per esempio, una bambina fu violentata dal padre. Se io non mi fossi chiusa allo Spirito Santo avrei ascoltato le sue ispirazioni divine e avrei pregato per loro, così il maligno non sarebbe entrato in quel padre, protetto dalla preghiera e quella violenza non ci sarebbe stata, ne avrebbe causato tanta sofferenza. Oppure quel giovane non si sarebbe suicidato. Il Signore continuò dicendomi, se tu avessi pregato quella ragazza non avrebbe abortito, quella persona non sarebbe morta sentendosi abbandonata da me in un letto d'ospedale. Se avessi pregato, io t'avrei consigliato affinché tu cominciassi ad aiutare i tuoi fratelli. Io ti avrei guidato, ti avrei condotto a queste persone, tanto dolore nel mondo e tu avresti potuto aiutare. Mi mostrò quante persone soffrono al mondo e quanto avrei potuto aiutare. Mai permisi che lo Spirito Santo mi toccasse, né mai mi lasciai commuovere per la sofferenza degli altri. Il Signore mi disse, guarda, guarda la sofferenza del mio popolo, guarda come avesti bisogno che io ferissi la tua famiglia con il cancro, perché tu ti commuovessi per quanti soffrono la stessa malattia. Ti commuovesti per i sequestrati solamente dopo che tuo marito stesso fu sequestrato. E quasi gridando, continuò, ma tu di pietra, incapace di sentire amore. Per concludere, tenterò di spiegare come ci si vede nel libro della vita. Io ero molto ipocrita, falsa. Ero di quelli che davanti alla persona fanno gli elogi, ma alle spalle ne parlano male. Che fuori parlano bene, ma dentro non si sente ciò che dicono. Per esempio, elogiavo qualcuno dicendo, sei carina, che vestito delizioso, ti sta benissimo, ma dentro pensavo, fai schifo, sei brutta e ti credi di essere una regina. Nel libro della vita si vede tutto questo, con la differenza, che vediamo anche i pensieri. Tutte le mie bugie vennero allo scoperto, al rosso vivo, così, così evidenti, che tutti potevano vedere. Quante volte uscì di nascosto da mia madre perché non mi lasciava andare da qualche parte. Quante bugie inventavo. Mamma, ho un lavoro di gruppo in biblioteca. Lei ci credeva e io me ne andavo a vedere un film pornografico, o al bar a prendere una birra con le mie amiche. Ed ecco mia madre lì, a vedere tutto nel libro della vita. Niente era nascosto. Che vergogna sentì, che vergogna. Al tempo in cui i miei genitori erano poveri, portavo a scuola per merenda del latte e una banana. Mangiavo la banana e buttavo la buccia dove capitava. Non mi venne mai in mente che qualcuno potesse farsi male a causa di quella buccia di banana. Il Signore mi fece vedere in effetti le conseguenze. Chi cadde, chi si fece male. Avrei persino potuto uccidere qualcuno con la mia incoscienza e mancanza di misericordia. Vidi con gran dolore e vergogna come solo una volta feci una buona confessione da adulta. Fu quando una signora mi diede di resto 4.500 pesos in più in un supermercato di Bogotà. Mio padre ci aveva insegnato ad essere onesti e mai toccare neanche un centesimo di alcuno. Mi accorsi in macchina dell'errore mentre andavo al mio ambulatorio e dissi fra me, ma guarda un po' quella stupida, quell'animale. Era così che parlavo. Mi ha dato 4.500 pesos in più. Adesso mi tocca tornare indietro. Ma guardando nello specchietto retrovisore vidi il traffico congestionato e dissi, no, non torno indietro. Non voglio far tardi e perder tempo. Peggio per lei che è stata così idiota. Ma rimasi con rimorso di quei soldi. Da questo lato mio padre ci aveva educato bene. La domenica mi confessai e dissi, mi accuso di aver rubato 4.500 pesos. Non avendoli restituiti, me li sono tenuti. Non prestai attenzione a ciò che il sacerdote mi disse, però il maligno non poteva accusarmi di essere ladra. Ma il Signore mi disse, fu una mancanza di carità non restituire il denaro perché per te 4.500 pesos era niente, ma per quella donna era l'alimentazione di tre giorni. La cosa più triste fu vedere come quella donna soffrì la fame per un paio di giorni per colpa mia insieme ai suoi due bambini. Così mi mostrò il Signore. Quando faccio qualcosa ci sono le conseguenze dei miei atti e chi soffre a causa di essi perché i nostri atti hanno sempre le loro conseguenze. Quello che facciamo ma anche quello che non facciamo porta conseguenze per noi e per gli altri. Tutti vedremo queste conseguenze nel libro della vita. Quando arriverà il momento di comparire davanti a Dio per il giudizio, lo vedrete come l'ho visto io. Il libro della mia vita si chiuse nel modo più bello. Nonostante il mio comportamento, nonostante i miei peccati, la mia immondizia, la mia indifferenza, i miei orribili sentimenti, il Signore mi cercò fino all'ultimo istante. Mi inviava sempre strumenti, persone, mi parlava, mi gridava, mi prendeva le cose, mi lasciò cadere in disgrazia per cercarmi e perché io lo cercassi. Mi inseguì sempre fino all'ultimo istante. sapete chi è il nostro Dio e Padre? È un Dio potente, innamorato, che me indica presso ciascuno di noi perché ci convertiamo. Invece quando le cose andavano male io dicevo Dio mi ha punito, mi ha condannato. Chiaro che non è così. Mai Egli ci condanna. Infatti di mio libero arbitrio scelsi liberamente chi fosse mio padre e non era Dio. Io scelsi Satana come mio padre. Quando fui colpita dal fulmine, prima di portarmi al seguro social, mi condussero in un ospedale pubblico dove c'erano tanti malati, tanti feriti, tanta sofferenza e non si trovava una barella disponibile per me. E quando coloro che mi portavano chiesero ai medici dove potessero mettermi, quelli dicevano soltanto laggiù, laggiù. E i miei soccorritori, ma laggiù dove? Laggiù sul pavimento. Ma essi non volevano lasciarmi per terra, perché ero molto ostionata e se avessi contratto l'infezione sarei certamente morta. Mentre stavo in un angolo durante quelle ore, i medici mi guardavano con una faccia e che non potevano lasciare qualcuno che aveva l'infarto, per esempio, o che era in condizioni molto gravi ma con più possibilità di sopravvivere rispetto a me, che invece ero tutta bruciata come un toast e con ogni probabilità sarei morta. Io però ero cosciente e parecchio irritata e mi mormoravo perché i medici non venivano da me. Ma ci fu un momento in cui mi calmai, senza brontolare, perché vedi nostro Signore Gesù Cristo che stava chinato e si teneva vicinissimo a me. Mi toccava la testa con le sue mani e mi consolava. Riuscite a immaginarlo? Riuscite a immaginare la tenerezza. Io pensai, sarà un'allucinazione. Com'è possibile vedere nostro Signore qui? Chiusi gli occhi, poi li riaprì e continuavo a vederlo lì. Mi disse con grande tenerezza, vedi piccolina, tu stai per morire. Sentiti bisognosa della mia misericordia. Immaginatevi, così dissi, misericordia, misericordia. Ma nel frattempo pensai, misericordia, perché? Cos'ho mai fatto di male? Non avevo coscienza dei miei errori, ma mi fu chiaro che stavo per morire. Questo sì. Ne rimasi rattristata. Ahimè, sto per morire. Ahimè, i miei anelli di diamanti. Mi ricordai subito dei miei anelli. Guardai e vedi tutta bruciata la carne delle dita, come se fossero esplose. Ma dicevo tra me, devo toglierli, costi quel che costi, altrimenti li dovranno rompere e perderanno il valore. Non pensavo ad altro. Vedevo le mie dita gonfiarsi e pensavo solo a togliermi gli anelli perché non li rompessero. Voi non immaginate che odore sgradevole alla carne bruciata. E quanto più muovevo quegli anelli, tanto più questa puzzava. Sentivo che sarei impazzita dal dolore. Ma insistevo e dicevo a me stessa. No, no, io devo riuscirci, devo riuscirci, perché nessuno mi vince. E questa carne non mi si ingrosserà. No, no, signore, io tolgo questi anelli da qui. Costi quel che costi, non morirò con essi. Quando alla fine riuscì a sfilarli, mi ricordai improvvisamente. Oh no, sto per morire e queste infermiere ruberanno i miei anelli. Nel frattempo arrivò mio cognato, io tutta contenta. Salva i miei anelli. Li consegnai a lui, che è il medico. E non poteva essere diversamente, perché altrimenti non li avrebbe toccati, ma li avrebbe buttati via e ben lontano. Infatti erano bruciati e con brandelli di carne attaccati. Gli dissi di consegnarli a Fernando, mio marito, aggiungendo, di alle mie sorelle che prendano i miei figli, perché poverini resteranno senza mamma. Infatti non me la caverò. Quando ebbi tolto gli anelli e li ebbi affidati a mio cognato perché li consegnassi a mio marito, mi dissi sollevata, ecco, adesso posso morire. E l'ultimo pensiero fu, ahimè, con quali soldi mi seppelliranno visto il mio conto bancario in rosso. La cosa peggiore fu che non approfittai di quei momenti che Gesù mi offriva per chiedergli misericordia e perdono. Ma come potevo chiedere perdono se pensavo di non avere peccati? Mi credevo una santa. Quando ci sentiamo santi è allora che ci condanniamo. Dio Padre ama tutti e ciascuno, indipendentemente dal fatto che siamo buoni o cattivi, e con tale intensità che sino all'ultimo istante viene fino a noi con tanta tenerezza, ci abbraccia con tutto il suo amore. Egli vuole salvarci, ma se non lo accogliamo, se non gli chiediamo perdono e misericordia, riconoscendo le nostre colpe, ci lascia liberi di seguire quello che abbiamo scelto. Se la nostra è stata una vita senza Dio, molto probabilmente in quel momento lo rifiuteremo e Lui ci rispetterà. Non ci obbliga ad accettarlo, non ci obbliga ad un'eternità con Lui. Pertanto, dopo averci abbracciato con il suo amore infinito, ci consegnerà con immenso dolore al Dio che liberamente ci siamo scelti. Per il Padre sarà come strapparsi un pezzo del proprio cuore. Così si chiusa il mio libro della vita.